Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a un nuovo video. Dunque, questo video non c'entra nulla con Nick for Speed Most World, semplicemente userò questo gioco come sottofondo alle mie chiacchierate, in quanto questo video sarà un video di aggiornamento, ho prenduto pure la macchina, tra l'altro cambiamola. Ah no, però questa cosa la compro in mente, Epic Fail. Praticamente questo video sarà un video di aggiornamento su un paio di cose che voglio fare prossimamente sul mio canale. Volevo fare, prima di tutto, un annuncio su un video che voglio fare a breve, diciamo nella prossima, nelle prossime due settimane se riesco, ovvero un video che tra l'altro dovrebbe iniziare una serie, se tutto va bene, su, diciamo, una serie di video che vuole dare spazio alla vostra voce, ovvero il primo video riguarda le vostre collezioni di videogiochi, ovvero vi chiedo di inviarvi, se volete, delle foto delle vostre collezioni, massimo quattro foto, avevo pensato, con, appunto, la foto delle vostre collezioni, mi lasciate il vostro link, e io penserò poi a fare un video un po' montato, con magari una canzone di sottofondo, in cui mostro tutte le vostre varie collezioni, metto ovviamente i link su cui cliccare per aggiungere i vostri canali, quindi diciamo che è un modo per conoscerci tutti quanti un po' meglio, al di là del solo scambio di commenti sotto i video, diciamo, è un modo un po' per sponsorizzare qualcuno, e per conoscerci tutti quanti un po' meglio, quindi questo, se vogliamo, è l'inizio di una rubrica, che spero andrà avanti il più possibile, diciamo, di video che hanno ogni volta un tema diverso, questa volta le nostre collezioni, il prossimo video potrebbe essere il nostro titolo preferito, per esempio, che sono sul banale, in cui voi mandate la foto, e io metto appunto il link dei vostri canali, eccetera, eccetera. Mi piace molto che questa rubrica prendesse piede, perché secondo me è un modo un po' alternativo per, diciamo, restare tutti quanti collegati, per vedere anche la nostra passione, come la mandiamo avanti, cosa ci piace di più, cosa ci piace di meno, eccetera, eccetera. Poi, questo è il primo annuncio. Il secondo annuncio, noi ci facciamo una passaggita molto spensierata, il secondo annuncio è legato a una serie che inizierò, non so bene quando, sinceramente, ma spero di inizierla presto, con un titolo che a me sta molto a cuore, avere una serie dedicata alle boss fight, questo perché mi è venuto in mente, bam, frontale, perché mi è venuto in mente di, recentemente, di fare un gameplay completo di Final Fantasy IX. Fortunatamente ho desistito dall'idea, però mi è venuto in mente, come giusto, anche sotto suggerimento di altre persone, di magari fare una serie in cui sconfiggio i vari boss del gioco, e quindi mi è venuto in mente di fare una serie di video un po', diciamo, un po' più elaborati del semplice scontro contro il boss, in cui magari faccio all'inizio una piccola scheda sul boss, parlo brevemente del, diciamo, il suo ruolo all'interno del gioco e poi faccio vedere il video in cui lo batto. Mi piacerebbe, appunto, fare questa serie sui boss di vari giochi, da GDR a platform a action, eccetera, eccetera. Quindi mi piacerebbe molto sapere cosa mi presenta di questa serie e se volete suggerirmi qualche titolo da, magari, da affrontare, non so, diciamo, è quello che vi può piacere, io ho qualche idea, già ce l'ho in mezzo, sui titoli che sto giocando recentemente, e quindi questo è. E poi, magari, qualche suggerimento per i prossimi gameplay da fare, perché adesso dovrò finire di caricare God of War, finirò di caricare Yoshi's Island, Mafia 2 penso che lo sospenderò, in quanto non sta riscontrando il feedback che pensavo, e poi comunque non mi piace neanche troppo come gameplay, da realizzare. Tenderei a puntare, soprattutto, diciamo, a tornare all'origine, ovvero, a giochi più retro possibili, in quanto giochi di nuova generazione, magari ne faccio uno ogni tanto, ma, diciamo, la mia propensione sarebbe per i giochi retro, quindi fatemi sapere la vostra, se avete dei consigli su qualche titolo. E quindi, niente, questi sono i progetti che vorrei realizzare a breve. Quello che ci tengo principalmente è quello della videocollezione, che, diciamo, dovrebbe dare inizio a una serie di... uh, cazzo, a una serie di video in cui voi potete avere il vostro spazio, quindi ci tengo molto ad iniziare questa serie, quindi mandatemi le vostre foto, tra l'altro, ecco, un modo per mandarle, perché se non lo dico, la gente non lo sa, potete mandarmele, o tramite la pagina di Facebook, e quindi me le mettete come allegato nell'acet privato, oppure all'indirizzo che vi lascerò in descrizione, vi dico anche, fabiocataldo25, che è il mio indirizzo di posta elettronica privata, diciamo, quello di fuori di YouTube. Quindi, niente, fatemi sapere la vostra su questi progetti, mandatemi le vostre foto, mi raccomando, nel frattempo che mi sono schiantato, e niente, noi ci vediamo un prossimo video, chissà quando arriverà, quindi, alla prossima, ciao, ciao!